Buongiorno a tutti, sono Marco Carletti, seguo il prodotto Oriente di NAR insieme a Giovanna De Carlo. Oggi il focus è il Giappone, parliamo delle novità del 2017 che abbiamo in programmazione e che abbiamo già online. Vi farò vedere il nuovo tour sul quale puntiamo molto e crediamo molto, si chiama Enjoy Japan, di cui al momento vedete già una locandina, una foto sulla nostra home page. Poi passeremo a una serie di servizi che vanno a implementare la nostra offerta del 2017 sulla base di servizi accessori, scelta di hotel, insomma un focus principalmente sulle novità. Iniziamo dal tour Enjoy Japan, è il tour che abbiamo in esclusiva studiato per voi per il prossimo anno 2017, quindi si tratta di un tour esclusivo solo per clienti NAR con tre partenze, le partenze sono il 4 giugno, il 13 agosto e il 3 settembre. Si tratta di un tour collettivo con guide locali parlanti italiano, apro un'altra scheda per farvi vedere meglio. Non si vede nulla, un momento solo. Non si vede nulla, un momento solo. Adesso vedete? Mi sentite tutti? Scusate, vado avanti. Dunque, vi dicevo, questa è la nostra, tornando un attimo alla pagina precedente, la nostra home page dove abbiamo indicato con una bella foto il tour Enjoy Japan, che è il nostro tour esclusivo. Apro una scheda diversa per vedere nel dettaglio che cosa comprende e quali sono le caratteristiche di questo tour. Dunque, andiamo subito nello specifico. Ecco qua. Ecco, questo è il tour Enjoy Japan completo. Perché completo? Perché la quota che abbiamo caricato naturalmente include anche i voli. I voli per le tre partenze. Ripeto, 4 giugno, 13 agosto e 3 settembre. È il giorno di partenza dall'Italia. Quindi al calendario partenze, vedete... scusate perché mi state scrivendo che non sentite. Riprovo. Mi sentite tutti? Qualcuno mi dice che mi sente, quindi io vado avanti. Dunque, le caratteristiche di questo tour. È un tour esclusivo solo per clienti NAR. È un tour di 9 notti con partenza dall'Italia, il 4 giugno, 13 agosto e 3 settembre. Quali sono le caratteristiche principali di questo tour? Innanzitutto, è un tour dove abbiamo un minimo due partecipanti, massimo 27. Quindi rispetto ad altri tour che ci sono sul mercato, è un tour con un numero limitato di passeggeri. Quindi sicuramente è un qualcosa che... Un attimo solo perché qualcuno dice che non sente. Non sento, no. Mi sentite bene? Scusate, problema tecnico. Ok, io vado avanti. Ok. Dunque, ripeto, le caratteristiche principali del tour. Così facciamo una carrellata di quello che include poi questo viaggio. Come vi dicevo, 9 notti, tour collettivo con guide locali e parlanti italiano, minimo 2, massimo 27 partecipanti. Le caratteristiche di questo itinerario, oltre a essere un viaggio classico, quindi da nord verso sud, entrando da Tokyo e uscendo da Osaka, prevedono anche delle esperienze molto interessanti, che non sono previste tra l'altro in altri itinerari, come ad esempio la visita della Valle del Chiso, che è quella valle, quella zona vicino a Nagoya, tra Tsumago e Magome, un'antica zona di stazioni di posta, dove nel corso dei secoli i mercanti che viaggiavano tra Tokyo e Kyoto sulla Nakazendo Route si fermavano per rifocillarsi, per riposarsi, e attraverso questa foresta della Valle del Chiso comunque sono ancora tuttora visitabili alcune di queste stazioni di posta. Quindi è una zona molto interessante che si può visitare in questo itinerario ed è un'esperienza diversa da quello che si può trovare poi in altri viaggi. Un'altra caratteristica dell'itinerario è il pernottamento e l'esperienza in Ryokan, che si fa a Takayama, quindi c'è la possibilità di vivere questa esperienza, che in un viaggio in Giappone è sempre consigliabile e molto piacevole per i clienti, molto diversa anche dalla nostra cultura e da quello a cui siamo abituati, quindi in questo tour c'è la possibilità di pernottare in Ryokan, dove si cena e la mattina dopo si fa la colazione. Sempre molto semplici pasti, tendenzialmente base vegetariana, però è l'esperienza in sé molto piacevole che all'interno di un viaggio come questo arricchisce proprio l'esperienza. Altra caratteristica importante da segnalare, la posizione e la scelta degli hotel che sono previsti all'interno dell'itinerario, ad esempio vi faccio un cenno sull'hotel di Tokyo, si trova nella zona di Shibuya, che è una delle principali zone della città, dove è ricca di locali, ricca di ristoranti, possibilità di muoversi anche individualmente, perché ci sono collegamenti con treni o metropolitane. Tenete presente che all'interno del viaggio ci sono dei momenti in cui si è liberi, quindi avendo l'hotel in posizione centrale o comunque in una posizione dove è servito molto bene, è facile e agevole potersi spostare anche in modo individuale, non sempre con la guida. Quindi questa è un'altra caratteristica da sottolineare. Altra cosa importante, oltre a, come vedete, i pasti indicati, c'è il discorso del wifi, che negli ultimi tempi viene sempre richiesto e segnalato, noi l'abbiamo indicato qui, in tutti gli hotel la connessione internet wifi è gratuita e inclusa, nel Rio Can solo nelle parti comuni, a differenza degli altri hotel standard, e in più c'è l'aggiunta del pocket wifi, che è una cosa molto carina, il pocket wifi è un strumento per essere sempre collegati anche in giro, quindi nel momento in cui si è con la guida durante i trasferimenti in pullman o in altre situazioni, durante le visite, è possibile essere collegati a questi pocket wifi, la guida ne avrà tre al massimo di dispositivi e per ogni dispositivo è possibile collegare fino a 10 device, quindi qualora il tour fosse completo, massimo 27 partecipanti, tutti i clienti possono collegarsi a internet almeno con un dispositivo. ho indicato qui sotto, come vedete, gli operativi dei voli, vi segnalo che le partenze di giugno e settembre, l'itinerario è operato con Finner, mentre in agosto Lufthansa, i posti sono bloccati, quindi questi sono i nostri operativi voli, quindi è un itinerario molto molto bello, un itinerario su cui puntiamo molto, c'è la possibilità oltre di vendere il tour semplicemente con il tour secco con i voli, anche come solo land, qualora voleste oppure anche fare dei combinati con altre destinazioni, è possibile farlo, quindi andiamo a scorporare il costo dei voli e abbinare una qualsiasi altra destinazione, faccio degli esempi, un Giappone più Thailandia, un Giappone più Polinesia, quindi tutti quelli, ad esempio, viaggi di nozze che ci vengono richiesti spessissimo, è possibile abbinarli anche a questo itinerario, quindi nel nostro sito troverete sia l'itinerario comprensivo di voli, sia quello per il solo land o per le combinazioni con altri viaggi. Vi faccio vedere il prezzo del solo land, giusto per farvi capire di che cifre parliamo, qui imposto la data del 5 giugno, è un po' lento perché siamo collegati in tanti, andiamo a prendere il tour, ecco qui, questo qui è il prezzo per due persone, nel solo tour, ci sono sempre due escursioni facoltative, la visita di Nikko con pranzo o la visita di Hiroshima e Miyajima con pranzo, che sono facoltative, si possono aggiungere al viaggio e sono da prenotare sempre prima della partenza, non si possono prenotare in loco, comunque è indicato anche questa cosa, e le escursioni sono indicate qui nell'itinerario, escursione facoltativa Nikko, escursione facoltativa Hiroshima e Miyajima. Qui sotto avete la cartina, se avete voglia di dare un'occhiata sull'itinerario e per rendervi conto meglio di cosa stiamo parlando, questo è l'itinerario. Quindi questa è la novità principale del 2017, non è l'unica naturalmente, vi parlo anche di un altro tour che abbiamo in programmazione per il 2017, ed è un tour che va a coprire un'altra area del Giappone, un'altra, l'isola di Shikoku, quindi l'area che si trova a sud di Osaka, tra Osaka e Okayama, è un'altra zona che non rientra nei tour classici, collettivi che ci sono al momento sul mercato, quindi questa è una grossa novità per chi magari ama approfondire la conoscenza del paese, non vuole limitarsi a fare gli itinerari classici, qui si visita la parte di Osama, vi faccio vedere la mappa per farvi vedere dove siamo, quindi siamo a sud, si entra da Osaka e si esce da Osaka, poi si può proseguire con il tour sulle orme dei samurai, quindi l'abbinata a un altro tour si può fare. Qui si visita Osaka, si visita Okayama, famosa soprattutto per il castello, la zona delle Dogonsen, dove c'è anche la possibilità di pernottare in Ryokan, quindi anche qui diverse esperienze, e anche questo è un itinerario nuovo per il prossimo anno. Qui in alto avete le date di partenza, il calendario partenze, vi ricordo sempre il giorno prima dall'Italia, quindi questo è il giorno di arrivo in Giappone. Questo è un po' quello che riguarda i tour, naturalmente tutti gli altri tour che vedete qui sono già online, sono già apprezzati, vi faccio un esempio, un tour che vendiamo molto bene, si chiama Il Meglio del Giappone, trovate già il calendario partenze, addirittura fino a marzo 2018, e ovviamente è già tutto apprezzato, quindi da questo punto di vista siamo coperti, ci sono diversi tour, diversi più o meno lunghi, e comunque in caso poi ci sentiamo per maggiori approfondimenti. Per quanto riguarda altri servizi di cui vi parlavo prima, abbiamo fatto nelle settimane scorse di una statistica degli hotel più venduti tra Tokyo, Kyoto e Osaka, le tre principali località vendute, all'interno di un itinerario libero, fly and train, quindi con l'abbonamento Japan Rail Pass, e itinerario in libertà. Preventivi che stanno sempre di più aumentando, conferme che aumentano, proprio per questi viaggi liberi, per chi cerca appunto massima flessibilità, stiamo notando che è sempre più richiesto questo tipo di viaggio. Come vi dicevo abbiamo fatto una ricerca degli hotel, una statistica degli hotel più venduti a Tokyo, Kyoto e Osaka, e abbiamo visto che la maggior parte di questi sono nella fascia di prezzo medio-bassa, quindi si cerca più che altro, si punta sempre al prezzo, quindi abbiamo voluto implementare il parco hotel, soprattutto di questa fascia di prezzo. Adesso vi faccio vedere un attimino come su Tokyo, quanti hotel scarica il sistema, e vi do qualche nome, perché oltre le classiche catene internazionali che conosciamo tutti, quello che funziona bene in Giappone sono le catene giapponesi, e vi faccio dei nomi, catene come Sanrut, catene come Higashi, Daiwa Roinet, sono degli hotel che vanno molto bene, da specificare, molto importante, è la caratteristica delle camere piuttosto piccole, quindi l'importante è comunicare questa cosa al cliente, nel momento in cui viene scelto di proporre uno di questi hotel, i prezzi sono assolutamente molto interessanti, la caratteristica, appunto come dicevo, è proprio la dimensione delle camere, quindi sono tutte camere piuttosto piccole, ma hanno i comfort necessari per fare un soggiorno assolutamente buono, senza intoppi, l'importante è comunicare questa cosa, vi faccio vedere, adesso che finisce di scaricare gli hotel su Tokyo, possiamo ordinare per prezzo, vi faccio qualche nome, Rose Garden Shinjuku, è un hotel nuovo che abbiamo inserito, Nishi Shinjuku, altra catena, il MyStays, ce ne sono diversi in Giappone, e sono tutti validissimi, considerate che la scelta è stata fatta anche per un discorso di località, di quartiere, ad esempio la zona di Shinjuku, come per Shibuya, che vi dicevo prima, è una delle principali aree di Tokyo, comoda per la posizione della stazione, che è vicino alla maggior parte degli hotel, è una stazione dove si può partire per località fuori Tokyo, ma soprattutto per la metropolitana, sia la sopraelevata che la metropolitana, quindi anche qui è un quartiere molto venduto nel mercato italiano, e abbiamo implementato la scelta proprio su questa zona, Rosgarden Shinjuku, Nishi Shinjuku, vedete qua, Igashi è un'altra catena, Sanruti Gashi, sono queste catene giapponesi, di cui vi ho appena spiegato le caratteristiche, quindi ampissima scelta, naturalmente abbiamo anche hotel di catena internazionale, come Libis, come Newotanica, un'altra in realtà giapponese, Monterello Sur, ce ne sono diversi, le località preferite dagli italiani rimangono Shinjuku, Ginza, Shibuya, questi sono i principali quartieri preferiti, vi faccio vedere anche un passaggio su Kyoto, e poi vi parlo dei servizi accessori delle varie località, naturalmente la scelta di hotel a Kyoto è inferiore rispetto a Tokyo, anche come numero proprio di camere, questo è importante da considerare soprattutto nel periodo di altissima stagione, e vale a dire la fioritura dei ciliegi, quindi da marzo a maggio, che è un periodo in cui tutto il Giappone è gettonato, nel senso che comunque c'è turismo da ogni parte del mondo, quindi non solo dal mercato italiano, ed è proprio difficile trovare disponibilità nelle strutture, quindi bisogna sempre prenotare con largo anticipo, già in questo momento abbiamo già dei problemi su alcune date per marzo e aprile, quindi anche solo semplicemente per individuali, quindi è sempre meglio portarsi avanti. Qui appunto delle catene giapponesi, stesso discorso di Tokyo, ne abbiamo diverse, adesso aspettiamo che finisce lo scarico della disponibilità, ci scarica tutto in tempo reale, quindi il prezzo e la disponibilità è sempre aggiornata, per questo ci mette un pochino di più, siamo collegati con diversi fornitori online, Erton è un hotel di catena giapponese che va molto bene, tendenzialmente si trova vicino alle stazioni, ecco finito, lo metto in ordine per prezzo, ecco qui, come vi dicevo, catena internazionale, Daiwa Roynet, catene giapponesi, Daiwa Roynet, Cittadines, Erton, sono alcuni nomi che vi potete segnare, qualora doveste fare delle quotazioni, appunto individuali, tornando un attimo a tappa Tokyo, vi faccio vedere poi i servizi che abbiamo implementato, come servizi accessori per un itinerario fly and train, adesso dovrebbe scaricare subito, devo caricare almeno un hotel per farvi vedere poi le visite e i trasferimenti, prendiamo una a caso, ecco qua, sotto visite e trasferimenti troviamo tutti i nostri servizi accessori, dei servizi nuovi, vi parlo del servizio benvenuti in Giappone, adesso vedrete, eccolo qui, apro la scheda, che cos'è il servizio di benvenuti in Giappone? è il servizio di assistenza e trasferimento, questi servizi sono naturalmente da proporre per viaggi individuali, quindi come vi dicevo, hotel più treno, qui si tratta di un servizio di assistenza, quindi c'è un personale giapponese parlante italiano, che attende i clienti in aeroporto, dopo il ritiro bagagli, quindi all'uscita, con i clienti, prende il Pullman Airport Limousine Bus, che arriva direttamente a Tokyo Station, insieme ai clienti, una volta arrivati a Tokyo Station, prendono insieme il taxi per raggiungere l'hotel, il costo del taxi è escluso dal costo di questo servizio, quindi va pagato in loco a parte, arrivano in hotel, fanno insieme check-in, quindi l'assistente aiuta il cliente a fare il check-in, e poi dedica un'ora di tempo, per una sorta di briefing, su quello che è il Giappone in generale, nello specifico Tokyo, come muoversi, come utilizzare la metropolitana, consegna ai clienti una mappa, consegna una piccola guida, quindi dà tutte quelle informazioni, utili per fare un soggiorno, poi senza difficoltà. Una piccola nota sull'arrivo in Giappone, e l'arrivo a Tokyo in particolare, essendo una cultura completamente diversa, essendo una megalopoli Tokyo, è sempre abbastanza difficile, diciamo, prendere le misure subito, quindi essere accompagnati e seguiti in questo senso, è sicuramente un qualcosa di più, che possiamo offrire ai clienti, è un qualcosa che sicuramente piace, perché noi abbiamo venduto parecchio questo servizio, durante quest'anno, e abbiamo avuto ottimi riscontri, quindi consigliatelo, è molto utile, e soprattutto, anche qui ho indicato, servizio support line, attivo 365 giorni, significa che l'assistente dà un numero di telefono attivo 24 ore su 24, ai clienti, per qualsiasi necessità, naturalmente poi c'è la nostra assistenza attiva 24 ore su 24, però questo è un qualcosa in più. Lo stesso tipo di servizio, si chiama Benvenuti in Giappone, con noleggio di router Wi-Fi, è assolutamente uguale in tutto, la cosa che si aggiunge, appunto, è la possibilità del noleggio del Pocket Wi-Fi, eccolo qui, Pocket Wi-Fi si aggiunge, appunto, al trasferimento, quindi non cambia nulla, quello che c'è in più è il noleggio del Pocket Wi-Fi, che l'assistente consegna subito ai clienti all'arrivo, e può essere valido 7, 14 o 21 giorni. Questa è una delle prime novità, naturalmente nei servizi accessori possiamo aggiungere già parallel pass, possiamo aggiungere diverse visite, il servizio di airport limousine bus, che è la navetta che raggiunge Tokyo, aeroporto, che può essere Narita o Aneda, a diversi hotel della città. C'è un elenco, si può consultare, qui vi abbiamo indicato il link, all'interno del quale si possono consultare, appunto, gli hotel raggiunti da questo servizio. Possiamo prenotare il servizio di guida, guida privata, parlante italiano, questo è il costo per 8 ore, che vedete qui, c'è la possibilità di prenotarla per 8, per 4 ore, è un servizio di guida, appunto, giapponesi, parlanti italiano, il prezzo non include mai, né pasti, né ingressi alle visite. Sono tutte guide qualificate, con patentino, quindi per chi cerca, questo tipo di servizio possiamo farlo, sia di 8, sia di 4 ore, nelle maggiori città, quindi Tokyo, Kyoto, Osaka. Un altro servizio, novità di quest'anno, è l'assistente, invece, giapponese, parlante italiano, sia 4 ore, sia 8 ore, si differisce dalla guida turistica, soprattutto perché non ha il patentino, quindi non è una guida, ma è solo un'assistenza, una persona giapponese che segue i clienti, gli dà i consigli su come affrontare il viaggio in Giappone, su dove andare a mangiare, come spostarsi a Tokyo, tutte quelle info utili che possono, appunto, aiutare i clienti a trascorrere una giornata piacevole, senza avere il dubbio di dove andare e cosa fare. Non è la guida, ma è un'assistenza, quindi è un servizio nuovo che abbiamo. Vi ricordo che come servizi possiamo aggiungere sempre la spedizione del bagaglio, vi faccio un esempio, spedizione del bagaglio tra Tokyo e Kyoto, nel momento in cui i clienti decidono di fare, ad esempio, Tokyo 4 notti, Alpi giapponesi 2 notti, quindi tra Takayama e Shirakawago e Kanazawa, e poi spostarsi a Kyoto, quindi cosa fanno? Lasciano il bagaglio a Tokyo, viene spedito direttamente dall'hotel la valigia direttamente a Kyoto, i clienti fanno le due notti sulle Alpi giapponesi con un bagaglio per due notti, quindi un piccolo bagaglio, e si ritrovano poi la valigia a Kyoto, questo è un servizio che vendiamo tantissimo, efficiente, sicuro, e sono tutti molto contenti, tra l'altro poi sui treni in Giappone, lo spazio dedicato alle valigie è sempre molto limitato, quindi talvolta si rischia di avere la valigia tra i piedi, in mezzo al sedile, quindi è piuttosto scomodo, è un altro servizio che consigliamo da suggerire ai clienti. Queste sono un po' le grosse novità, vi passo un attimo Mare Grazia, un secondo solo. Ciao a tutti, scusate l'interruzione, penso che Marco vi abbia già raccontato tantissimo, adesso introduciamo Fabrizio Pozzoni, il nostro collega di Alitalia, che vi presenterà appunto la sua parte legata alla sua destinazione e alla sua compagnia. Dopodiché vi faccio riparlare con ascoltanti, e vi faccio riparlare nuovamente Marco, che completerà con la sua presentazione. Allora, un attimo solo di pazienza, che apriamo subito la presentazione di Fabrizio, così abbiamo tutto. Fabri, se ti vuoi accomodare, ti passo la cuffietta, un secondo solo, che apriamo il tutto. eccoci qua. Allora, vi passo Fabrizio, buon proseguimento, e a tra poco dove riprenderà Marco con il termine del suo spazio. Un attimo solo. Buongiorno a tutti, Fabrizio Pozzoni, rappresentanza di Alitalia, passeremo una decina di minuti circa a raccontarvi quelle che sono le novità di Alitalia in termini di prodotto, in termini di attenzione al cliente, in termini di valorizzazione di quello che è il valore appunto tipico del nostro DNA, ovvero dell'italianità, che fa parte di ciascuno di noi, inteso come brand, effettivamente, non tanto come un prodotto a sé stante, ma come un marchio, riconoscibile ovunque. Quando si viaggiano gli italiani, veniamo sempre, come dire, invidiati da tutto il mondo per quei valori, per quei tratti caratteriali che abbiamo appunto tra di noi. È da qui che Alitalia è ripartita, ed è ripartita con un nuovo viaggio che tenderebbe a portare la percezione, il servizio, il prodotto della compagnia stessa ha un prodotto, una connotazione di eccellenza. Molte cose abbiamo fatto durante quest'anno, il processo è ongoing, si concluderà entro la fine dell'anno prossimo, abbiamo rinnovato completamente gli interni di quasi tutta la nostra flotta, abbiamo inaugurato le lounge, le case Alitalia, che saranno un fiorello occhiello, sono già un fiorello occhiello per i nostri ospiti, anche da qui passa un cambio culturale in essere, quindi non più clienti ma ospiti, dicevo appunto dove i nostri ospiti potranno attendere comodamente la partenza del proprio volo, degustando quelle che sono le caratteristiche enoganostronomiche che tutti noi ben conosciamo e che hanno fatto evidentemente della cucina italiana un'eccellenza mondiale. Andremo a riconfigurare tutta la flotta con nuove livree che saranno terminate entro la metà dell'anno prossimo, le nuove uniformi che tanto hanno fatto discutere sono state lanciate, spero che insomma la discussione vada avanti ancora per un po' perché significa che c'è interesse, dietro questa cosa una flotta in continuo cambiamento con tutta una serie di servizi wifi compreso che saranno implementati sempre di più per un totale di 122 aeromobili dove trovate la declinazione della flotta proprio nella slide che stiamo vedendo. Quando parlavo di nascita di lounge Casa l'Italia mi riferivo proprio a un concetto di lounge esclusivo che vorrebbe portare o far sì che il nostro ospite si senta accolto in una casa tipicamente italiana e degustando quelli che sono appunto valori eccellenti di quelle che sono appunto le nostre caratteristiche. Mi riferisco al food, mi riferisco al vino, ci saranno degli spettacoli di show cooking nelle nostre lounge due volte al giorno, si avrà la possibilità di degustare un buon piatto di cucina italiana e sorseggiando un bicchiere di vino tra le cantine maggiormente importanti in Italia che sono state messe sotto contratto a livello di partnership dall'Italia stessa. Per cui l'obiettivo è di poter fornire un'accoglienza e un'ospitalità e un'eccellenza di tutto riguardo, speriamo che sia anche la percezione dell'ospite finale, con un tratto italiano che accompagnerà sia la permanenza on board che i servizi pre-flight e ci auguriamo che possa coccolare i nostri ospiti anche in futuro. Entrando nel dettaglio del prodotto, qui avete la poltrona di business class completamente reclinabile, poltrona declinata da poltrone frau che ha gestito anche l'arredo di tutte le nostre lounge portando un design molto ricercato tornando a dire dai forti e marcati tratti italiani all'interno del prodotto di business class che ben vedete reclinato esistono tutta un'altra serie di servizi che consentono all'ospite di poter soggiornare a bordo dei nostri aeromobili quasi come se non fosse on air perché grazie al premio di best in flight wine program e best airline cuisine che abbiamo vinto per il sesto anno consecutivo saranno somministrati erogati al nostro ospite di business class menu dal carattere regionale che saranno rotati ogni 2-3 mesi quindi ogni 2-3 mesi avremo una tipologia di menu ispirato alla tradizione regionale diversa dalla precedente alla quale appunto il nostro collega il vice presidente della fondazione italiana sommelier abbinerà di volta in volta un vino particolare o una scelta abbinabile che possa esaltare la degustazione on board anche perché se non lo sapete o come ben sapete on board la percezione dei gusti cambia trattandosi di un ambiente pressurizzato anche la percezione sensoriale quella dei gusti può subire variazioni per cui è molto importante andare a scovare quelle che sono le eccellenze dell'enologia italiana ricercando quei gusti forti che possono essere saporati anche direttamente on board altro prodotto sul quale poniamo una particolare accento è la cabina di premium economy una cabina completamente insonorizzata e privatizzata all'interno della quale il nostro ospite potrà vedersi erogato un servizio che io considero una mini business perché è esattamente a metà tra la poltrona di business class e la poltrona di economy un servizio con un catering dedicato di tutto riguardo e con un fino a un 40% di spazio per le gambe e per il corpo a garanzia del soggiorno diretto in aereo a contorno di quello che è il servizio erogato in premium economy avremo anche kit dedicati appunto a questo comparto di viaggio con amenities utili per le fasi di crociera e perché no alla fine di un buon pasto italiano con un buon calice di vino italiano perché no un buon digestivo una grappa un limoncello sempre di marcata firma italiana al termine del quale potremo sorseggiare grazie alla partnership con l'avanza con l'avanza anche un ottimo espresso che bevuto a 11.000 metri di quota porta assolutamente il sapore a un livello veramente altissimo per quanto riguarda anche il completo rinnovo degli interni dei nostri aerei ci siamo occupati anche di diversificare e di particolarizzare anche il segmento di economy per quanto riguarda il lungoraggio con un'attenzione marcata anche in questo caso al comfort anche in questo caso all'intrattenimento e anche in questo caso al catering on board che avrà le stesse peculiarità del catering erogato o somministrato in business o in economy ma con una ottimizzazione del prodotto magari verrà erogato tramite il vecchio vassoio come solitamente si consegue all'interno di quello che è il complesso processo di rinnovamento torniamo per un attimo alle nostre nuove lounge le case all'Italia dove vedete che sono già state inaugurate negli aeroporti che trovate sulla destra nella parte a sinistra avete anche in qualche modo quello che è il discorso che abbiamo fatto fino adesso quindi tutta quella serie di particolari tendenti ad esaltare il gusto del viaggio e a fare in modo che sia un'esperienza unica esperienza unica che i nostri ospiti di business class potranno valorizzare e gustare direttamente da casa nel momento in cui saranno ospitati a bordo del nostro servizio limousine del servizio chauffeur che li porterà da casa propria all'aeroporto di riferimento in base al chilometraggio che di volta in volta la singola destinazione di riferimento prevederà anche nel punto di turnaround altri grossi interinvestimenti all'Italia li ha portati avanti sull'aeroporto di Fiumicino sono stati garantiti servizi di aerobus tra Milano e Linate tra Linate e Malpensa e tra Perugia Pescara e Roma servizi prenotabili direttamente tramite il vostro CRS al momento sono completamente gratuiti e sono un'ottima soluzione per quelle possibilità di viaggio sud-nord che prevedono la partenza da Milano dall'aeroporto di Malpensa e un arrivo all'aeroporto di Linate ripeto completamente gratuito e prenotabile in CRS come altra grossa attenzione è stata portata avanti in questo periodo nel cercare di come dire smarcare un po' la percezione negativa che l'aeroporto di Fiumicino può avere nel proprio DNA tanto per far portare una nota positiva che non si sottolinea mai l'aeroporto di Fiumicino è in graduatoria per perdita di bagagli alle spalle di aeroporti come Chardegolo o Schiphol questo ci dà la possibilità di poter comunque garantire che la diceria che all'Italia è sempre in ritardo o perde i bagagli a Fiumicino non è più tale è basata su vecchie esperienze di viaggio e anche in questo senso stiamo cercando di andare incontro a quelle che sono le critiche ricevute dal mercato anche laddove ci veniva criticata una scarsa presenza all'interno degli aeroporti è stata creata una divisione di colleghi che si chiama Transit Crew che sarà posizionata proprio nell'area transit dell'aeroporto di Fiumicino e che faciliterà quelli che sono i collegamenti in arrivo e in uscita appunto dallo stesso aeroporto per quanto riguarda questa slide che ritengo la più importante è quella che rappresenta il cambio filosofico dell'azienda che rappresento azienda che fino a poco tempo fa veniva considerata come una compagnia aerea point to point e che da questo momento in avanti ha l'ambizione di volersi riconosciuta come una compagnia operante in un network globale tant'è vero che oggi arrivare da Cuba nuova destinazione che andremo ad aprire da qui a breve che poi vedremo una slide a Tokyo in Giappone sarà possibile utilizzando due servizi di Alital qualcuno di voi deve avere aperto il microfono io sento che voglio dire non per altri voi di prendere i vostri microfoni perché ho delle difficoltà di un po' quello che sto dicendo andiamo avanti cercando di non avere più questo genere di problema problema che evidentemente anche in una situazione tecnologica come quella che abbiamo oggi può verificarsi e che siamo prontissimi a risolvere grazie all'aiuto dei colleghi di NAR che ci assistono in questo webinar dicevamo questo cambio filosofico che vuole portare appunto a considerare l'Italia come compagnia globale sfrutterà sempre di più quelle che sono le possibilità di viaggio del nostro stakeholders ovvero di Etihad all'interno del quale network noi operiamo e collaboriamo in piena sinergia in piena sintonia tornando a quello che è il focus di questo webinar all'Italia NAR vi ricordo con questa slide quelli che sono i servizi che abbiamo garantito dall'Italia al Giappone e sicuramente sui quali il partner di riferimento in questo caso NAR saprà costruire dei pacchetti ad hoc i più variegati possibili ma occorre fissare che l'operativo da Roma è un daily mentre l'operativo da Milano a Tokyo è un 5 settimi nell'ultimo periodo sto davvero riassaporando la bellezza di un volo diretto vi garantisco che salire a casa propria e scendere a punto di destinazione è un valore che non paga una volta arrivati in Giappone queste sono tutte le possibilità in prosecuzione con le compagnie di riferimento con i quali abbiamo SPA agreement in place non mi riferisco solamente a collegamenti sul Giappone ma anche a interazioni sulla Cina e sulla Corea altre destinazioni che sono il fiore all'occhiello dell'offerta verso Oriente di Alitalia in questa slide un breve richiamo a quello che è il collegamento per Pechino che fissare non fa mai male con i propri collegamenti intra-Oriente ripeto le combinate tra le varie destinazioni orientali sono assolutamente possibili e sono in qualche modo suggeribili e mi aspetto che vengano sempre di più proposte il collegamento 4 settimi sull'aeroporto di Seoul operato con Airbus 330 consentirà facili connessioni sia interne che combinabili come dicevo con gli altri punti operati direttamente dall'Italia per quanto riguarda l'overview di questa presentazione ricordo che oltre ad essere partner di ETA Airways e dei vettori che compongono il programma EAP ETA Airways Partner mi riferisco a Air Seychelles Air Serbia Air Berlin e quant'altri abbiamo da anni anche in piedi un'alleanza con Sky Team con la quale riusciamo a raggiungere 6 continenti utilizzando più di 20 compagnie partner una breve carrellata su quelli che saranno i prossimi punti di forza dell'offerta all'Italia 30 di ottobre andiamo ad integrare l'offerta su Teheran facendolo passare da Daily cooperato con un 321 a un operativo operato con Airbus 330 all'apertura della Tenerife del 30 ottobre e Fiorello Chielo ultimo nato il collegamento diretto da Roma per Lavana una volta a settimana martedì la frequenza del sabato è tutta data in gestione a un operatore navale per cui in questo caso avremo la possibilità di poter fruire di questo collegamento direttamente il martedì vi ricordo di consigliare suggerire ai vostri ospiti clienti l'iscrizione al programma Mille Miglia che essendo completamente gratuita dà solamente dei benefit senza togliere che sia al nostro ospite gradito e darà appunto possibilità al nostro ospite di poter interagire con tutta una serie di business partner attraverso i quali poter redimere le miglia guadagnate e poter gestire i propri punteggi in piena autonomia io ho terminato vi ringrazio di questo breve spazio rilascio la parola a Marco Carletti che chiuderà la presentazione sul Giappone e vi auguro una buona giornata grazie per l'ascolto arrivederci eccomi qui in collaborazione con Alitalia vi faccio vedere una proposta che abbiamo studiato se riesco a uscire da qui torno sulla nostra home page dove trovate una proposta appunto con tour Giappone in libertà quindi con voli diretti all'Italia come abbiamo sentito da Fabrizio poco fa un tour di nove notti una proposta naturalmente senza guida parlante italiano si tratta di un itinerario completo due notti Tokyo tre a Kyoto una Kanazawa una Takayama e due di nuovo a Tokyo questo per sfruttare la possibilità del volo diretto quindi forse adesso riuscite a vedere tutti ecco qui dovreste vederlo appunto ok questa è la proposta che trovate sempre sulla nostra home page al momento appunto in collaborazione con l'Italia fino a fine marzo qui nella quota sono inclusi il servizio di benvenuti in Giappone di cui vi ho parlato poco fa il Japan Rail Pass di sette giorni di seconda classe una visita di di Nara la spedizione bagaglio Kyoto Tokyo che è molto comoda molto efficiente e dei biglietti del bus Kanazawa Shirakawa Go Kanazawa quindi questo è un po' la proposta che si può consigliare a tutti coloro che vogliono fare un viaggio in libertà la trovate sempre qui nella nostra home page a questo punto io altre novità al momento non ne ho se voi avete delle domande potete potete scrivere così almeno io le ripeto e vediamo di dare una risposta nessuna domanda quindi direi che cosa costa il solo land del tour è una domanda parliamo del tour in Joy Japan o del tour in libertà allora l'enjoy era parlando di giugno 3800 euro a persona un'altra domanda come si chiama la regione delle vecchie stazioni di posta che si tocca nell'enjoy Japan è la valle del chiso e le stazioni di posta che si vedono sono quelle di Tsumago e Magome un'altra domanda un'altra domanda anche a 35-40 passeggeri che si vediamo in che si vediamo esistono delle visite collettive in italiano no non esistono quelle collettive sono sempre con guida parlante inglese. Da Tokyo quanto ci si mette per arrivare in treno a Kyoto, sono circa due ore. Enjoy Japan si può avere in partenza anche da Venezia, possiamo lavorare sull'avvicinamento della partenza di agosto, quella con Lufthansa, però non è mai confermata, è su richiesta, le altre solo Milano o Roma. Il medio del Giappone è un tour condiviso, sì, con altri operatori. Secondo te l'esperienza in Ryokan è fattibile con l'infante di un anno e mezzo, da sconsigliare, sconsigliare meglio sicuramente un hotel tradizionale. Sarebbe possibile avere quotazione per gruppetti di 10 persone, stesse date o partire a fine settembre? Sì, è possibile, tendenzialmente da marzo a maggio, come dicevo prima, abbiamo già difficoltà con gli individuali, quindi sui gruppi è ancora peggio. Settembre è un altro periodo di altissima stagione, c'è la Silver Week, quindi bisogna cominciare a lavorarci. Nel tour di gruppo generalmente gli orari di partenza per visite e spostamenti sono molto mattutini, le visite iniziano tendenzialmente verso le 9 della mattina, poi 8 e mezza, 9, questi sono gli orari. Non c'è una stagione migliore per visitare il Giappone, come tutto l'anno si può visitare, i periodi sicuramente più freddi, dove troviamo meno turisti, sono tendenzialmente gennaio e febbraio. Tutto il resto dell'anno è sicuramente un paese che si può visitare, ci sono periodi di picchi, proprio di turismo, quindi i periodi della fioritura e del foliage in autunno. Naturalmente anche l'estate è sempre molto gettonata, soprattutto negli ultimi anni. Ha più o meno il nostro clima, sì, è un clima continentale, è piuttosto freddo in inverno e con estati caldi e affose. Marisa, sì, puoi tranquillamente parlare con me o con gli altri colleghi del booking dell'ufficio oriente, quindi nessun problema, ti diamo tutti i consigli che vuoi prima di mandare le richieste di preventivo, anzi da un certo punto di vista meglio, così cerchiamo di capire esattamente quello di cui hai bisogno e facciamo una quotazione proprio mirata, quindi assolutamente sì. in reparto siamo in 5, quindi nessun problema. Per soggiorno mare cosa consigli, cosa suggerisci? Io vi direi eviterei il Giappone, nel senso che l'unica località dove si può fare mare è l'arcipelago di Okinawa, c'è un problema non da sottovalutare che è un problema climatico, infatti ci sono spesso durante l'anno di tifoni soprattutto da giugno a metà agosto, quindi che è proprio il periodo in cui si concentra la maggior parte dei viaggi di nozze. È una destinazione che si può raggiungere perché comodamente sia da Osaka che da Tokyo, ripeto, c'è questo problema di clima, quindi bisogna fare molta attenzione e un'altra questione da non sottovalutare è il rapporto qualità-prezzo degli hotel, infatti sono la maggior parte tutti di catena internazionale o comunque strutture molto grandi e molto più care rispetto a quello che è poi l'honshu centrale, quindi la zona di Tokyo e Kyoto. Alternative ce ne sono moltissime, dipende un po' dalla stagione, tutto il sud-est asiatico, il Pacifico, quindi in abbondanza e i collegamenti ce ne sono diversi, si può anche pensare a combinazioni con l'oceano indiano, a noi ce ne chiedono tanti, Giappone Maldive, Giappone più Seychelles, più Mauritius, l'imbarazzo della scelta. Non abbiamo parlato di possibili notte a Montecoya, sì è vero, più che altro per un discorso di tempistica, noi possiamo assolutamente prenotarle, Montecoya è un'esperienza da fare, da consigliare, almeno una notte, c'è la possibilità di dormire nei monasteri, quindi sistemazioni molto semplici, si vive l'esperienza del tipo Ryokan, quindi si dorme per terra, si cena e si fa la colazione, sempre in base vegetariana, quindi anche al mattino, all'interno proprio della camera dove si dorme. Da segnalare, molto importante, che non tutti i monasteri hanno il bagno privato, significa che all'interno delle camere magari c'è la toilette con un lavandino molto piccolo, però la doccia è sempre esterna, quindi questa cosa è importante da segnalare, però è un'esperienza sicuramente che consiglio, al mattino del giorno dopo del pernottamento c'è la possibilità, svegliandosi molto presto, di assistere alla preghiera dei monaci, quindi buddisti, quindi è molto molto piacevole, molto mistica come esperienza. Il tour a sud di Osaka può essere dato anche come individuale, si può quotare naturalmente tutto su base privata, i costi sono molto alti, ho già risposto ai bagni in comune, anche in inverno è fattibile, penso sia rivolta al Monte Coia, è fattibile, tecnicamente sì, ci troviamo a mille metri, quindi potrebbe anche nevicare, stesso discorso vale per la zona delle Alpi Giapponesi, quindi Takayama, Shirakawago, Kanazawa, in inverno tutto fattibile, tenete presente che può nevicare e quindi c'è un clima molto rigido e magari non tutti i collegamenti sono puntuali e precisi come il resto dell'anno, però tecnicamente si può fare, se non è proprio indispensabile magari è consigliabile fare altre località. Altre domande non ne vedo, mi sembra, per esempio oltre a Ryokan una destinazione da non mancare, Ryokan è un'esperienza, quindi sicuramente si può consigliare anche un pernottamento nella zona di Akone e Monte Fuji, anche qui c'è la possibilità di dormire sia in hotel sia in Ryokan, Akone è una delle località termali più famose e conosciute del Giappone, ma non è l'unica, vi faccio un altro nome, si chiama Arima Onsen, ci troviamo a nord di Kobe, è un'altra località molto famosa per la zona termale giapponese, quindi questa è un'altra località. Un'altra esperienza e un'altra visita che si può consigliare è la regione a sud di Vakayama dove c'è il famoso Kumano Kodo, il Kumano Kodo vi ho aperto una scheda che abbiamo sulla home page, questa è un'idea di viaggio, il Kumano Kodo è famoso perché innanzitutto è una zona patrimonio dell'umanità dichiarata dall'UNESCO, è gemellata con il Cammino di Santiago, è un percorso ricco di spiritualità, qui si attraversano queste foreste ricche di templi di Ryokan dove per notare fare le onsen, quindi le basche termali all'interno di un paesaggio molto molto suggestivo. Date un'occhiata qui sulla home page è un'idea di viaggio, si può tranquillamente proporre per chi vuole fare un tour in libertà, si raggiunge sempre da Osaka. Alcune onsen hanno restrizioni sul discorso tatuaggi, quindi dipende, se sono tatuaggi molto vistosi può essere che non siano alcune onsen accessibili, questo purtroppo bisogna poi verificarlo sempre in loco con il Ryokan di riferimento. Di solito alcuni tatuaggi più piccoli si possono coprire anche con dei cerotti che danno neri o can, quindi si possono nascondere in questo senso. Onsen private in camera esistono, sono camere piuttosto costose ma c'è questa possibilità. non è un problema di donne o uomini, il discorso di tatuaggi vale per entrambi. tutto con bus locale, penso sia riferito alla zona del Kumano Kodo, si corretto. Il Tanabe ad esempio potrebbe dare problemi per tatuaggi molto vistosi, quindi dipende che livello è, se è un piccolo tatuaggio che si può facilmente nascondere non ci sono problemi, se è un corpo tutto tatuato, un braccio tutto tatuato potrebbero esserci problemi. non vedo altre domande, quindi mi sembra di aver risposto a tutti, forse ho perso qualcuno, però credo di no. Naturalmente come vi dicevo siamo a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta, sentiamoci per telefono se avete dubbi. Fabio mi chiede di Miyajima, Miyajima c'è forse il discorso dei tatuaggi o come esperienza, comunque si la vendiamo, Miyajima si può vendere tranquillamente all'interno di un itinerario libero o appunto all'interno del tour, una bella esperienza si può fare da Osaka, passando da Hiroshima, magari visitando Hiroshima la mattina, poi si raggiunge Miyajima, si pernotta Miyajima, si può dormire in Ryokan o il più famoso è l'Ibazo Ryokan che è di una categoria superiore a tutti gli altri, è un'esperienza da fare, è molto piacevole. Bene, direi che il tempo è scaduto, a questo punto vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo per qualsiasi necessità. Grazie a tutti, buona giornata.